Musica Benvenuti amici telespettatori a un nuovo appuntamento di AgriSapori, il piacere del buon gusto. Apriamo questa nuova puntata con un'eccellenza molto importante per il nostro territorio e che è ormai ben radicata nella nostra cultura alimentare, l'olio d'oliva. La coltivazione di olivo e la produzione di olio d'oliva sono diffuse in massima parte nell'area del Mediterraneo. L'Unione Europea nel suo complesso occupa l'80% della produzione mondiale di olio d'oliva e l'Italia è il secondo produttore solo dopo la Spagna. La coltivazione dell'olivo in Italia è molto diffusa nelle regioni del centro con un 19% e del sud con addirittura un 77,9%, mentre al nord la produzione è più limitata, un 2%. Anna Rufolo è il responsabile nazionale della Confederazione Italiana Agricoltori relativamente all'olio d'oliva. Dottoressa, quanto è importante questo prodotto per la nostra alimentazione? L'olio rappresenta un prodotto di pregio assolutamente per la nostra alimentazione. L'olivo ha un valore in Italia importante dal punto di vista territoriale, dal punto di vista culturale, paesaggistico ed è una produzione notevole per la nostra agricoltura. L'olio è ora considerato a tutti gli effetti un alimento, non più soltanto un condimento, per il suo benefico apporto e per le sue caratteristiche. In particolare, ovviamente, faccio riferimento all'olio extravergine di oliva. Riscontriamo sul mercato diverse tipologie di olio, olio a denominazione di origine, l'Italia vanta 45 denominazioni di origine, di cui 42 DOP e 3 IGP, quindi un incredibile patrimonio di denominazioni di origine territoriale che vanno ovviamente valorizzate, che rendono atto della grande diversità presente sul nostro territorio, una diversità di prodotti, ma anche una diversità di cultivar. Vantiamo 350 cultivar, un patrimonio di biodiversità unico al mondo e che ovviamente fa sì che possano essere ottenuti dei prodotti con caratteristiche estremamente variabili. Quindi parliamo di denominazioni di origine, ma anche di prodotto biologico che può essere presente sul mercato. Come e a che cosa bisogna stare attenti quando si sceglie un olio d'oliva sugli scaffali del supermercato? La scelta va fatta ovviamente in maniera consapevole, quindi leggendo attentamente l'etichetta, l'etichetta che riporta la categoria di olio, parliamo della categoria più alta in assoluto, ovviamente l'extravergine e va fatta anche leggendo quella che è l'origine. Se noi prediligiamo un prodotto territoriale, in etichetta riscontreremo la denominazione, l'origine, l'origine se è un prodotto italiano, se è un prodotto di un territorio particolare piuttosto che un altro, oppure se è un prodotto ottenuto a partire da prodotto estero. Quindi è importante leggere l'etichetta che ci dice molto sulle proprietà del prodotto che acquistiamo, sull'origine e sulla categoria ovviamente del prodotto che stiamo acquistando. Quindi cari telespettatori ricordiamoci sempre di controllare le caratteristiche del prodotto che troviamo sullo scaffale del supermercato prima di acquistarlo, al fine di mantenere una sana alimentazione e corretta. Ma per fare questo è importante anche una giusta informazione. In questi ultimi anni i metodi di comunicazione si sono evoluti rapidamente con l'ingresso dei media e dei social network e ciò ha decisamente influito anche nel campo alimentare. Una volta ci si fidava del piccolo negoziante di paese piuttosto che del contadino. Oggi abbiamo invece la possibilità di accedere a un'infinità di informazioni diverse proveniente da tutto il mondo. Come è cambiato quindi il modo di comunicare al giorno d'oggi? Il Cibo oggi va comunicato in tanti modi perché sono vari e sempre più ampi le tipologie di strumenti e di mezzi di comunicazione che abbiamo a disposizione. Anche per questo motivo, insomma, nella nostra esperienza l'idea di lavorare insieme e quindi di mettere in sinergia fra loro professionalità diverse e quindi dando al lavoro giornalistico un valore aggiunto permette di rispondere in maniera più puntuale e completa a quelle che sono le esigenze anche a livello di ufficio stampa, ad esempio, che può avere un'azienda o un'industria alimentare che ha bisogno di rapportarsi ai media tradizionali ma anche di far fronte a tutta una comunicazione che passa per i media, che siano essi social o i blog. Il grande cambiamento è stato quindi dovuto al cambio degli strumenti di comunicazione legati al web. Questo porta anche alla necessità di un linguaggio e una scrittura più consoni a questi nuovi mezzi. Per forza. Bisogna cambiare il modo di scrivere e bisogna imparare a scrivere in un altro modo. Bisogna imparare a declinare lo stesso contenuto in modi diversi a seconda dell'interlocutore e a seconda del mezzo che si vuole utilizzare o che è più opportuno utilizzare. È una sfida, è una cosa che bisogna imparare facendo perché il cambiamento è così veloce, così continuo che non si ha il tempo di leggere le istruzioni. Molte volte le istruzioni non ci sono neanche, ma è anche la cosa più affascinante. Dal momento in cui il web è accessibile a chiunque, sia per quanto riguarda il pubblico che per chi vuole pubblicare il suo pensiero, è molto rischioso anche imbattersi in notizie e informazioni false, specialmente quando si parla di corretta alimentazione. È quindi importante attingere a notizie che siano certe e provate. Purtroppo però non è così facile evitare la diffusione virale delle cosiddette bufale o fake news. Fabrizio, quante notizie false esistono oggi in rete? Penso che ci siano più messaggi non giusti che non messaggi giusti, dove per giusti intendiamo veri. Purtroppo la rete amplificando e diversificando molto la comunicazione e le informazioni, e introducendo nel campo anche nuove professionalità, non strettamente giornalistiche, ha perso quel lavoro di mediazione, di filtro, che porta ad esempio a verificare l'attendibilità delle fonti, alla verità delle notizie, e così ha favorito, spesso magari anche involontariamente, la diffusione di molte notizie che non hanno un fondamento. Su questo c'è da lavorare. Grazie dunque per queste importanti e preziose informazioni. Noi continuiamo il nostro viaggio, andiamo ad Aosta, perché si è svolto qui un importante seminario dal titolo L'Europa per l'Italia e l'Italia per l'Europa, il ruolo dell'informazione. Si tratta di un seminario, l'ottavo appuntamento di un tour, che toccherà tutta Italia, organizzato dall'Ufficio Informazione Italiano del Parlamento Europeo, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti e l'Europe Direct, con l'obiettivo di presentare le istituzioni, dare risposte e presentare opportunità concrete ai cittadini. La sfida è da ambo le parti. Cioè da una parte dobbiamo presentarci a tutti i cittadini, soprattutto quello che facciamo, cosa facciamo. Non possiamo essere più un'istituzione chiusa, un ponte elevatoio sempre alzato, dove in una fortezza i funzionari lavorano senza far sapere ai cittadini le opportunità che effettivamente l'Europa mette a disposizione. Dall'altra è importante ascoltare, cioè capire la territorialità, che cosa chiede all'Europa, che cosa vuole dall'Europa, che cosa si aspetta non solo in termini di comunicazione, ma anche di opportunità. Perché poi la territorialità è complessa, è multiforme, ha delle eccellenze fantastiche, le associazioni di categoria, gli studenti, i giovani, le università, le camere di commercio. Tutti questi attori locali hanno bisogno di più Europa. Noi siamo qui per capire questa dinamica in entrambe le direzioni. Parliamo ora dell'attenzione che l'Europa rivolge al settore agroalimentare, molto importante in Valle d'Aosta, come per tutta la nostra bellissima penisola. Mantenere sotto controllo l'esportazione e l'importazione dei prodotti è fondamentale al fine di preservare l'alta qualità e l'unicità dei nostri prodotti. Direttore, quanta attenzione rivolge l'Europa alla tutela delle eccellenze italiane? Sì, siamo molto attenti alla salvaguardia della nostra realtà nell'agroalimentare per due motivi fondamentalmente. Il primo perché abbiamo delle eccellenze straordinarie e quindi non possiamo permetterci di andare verso un'industrializzazione complessa e unica, ma dobbiamo salvaguardare anche le realtà locali e territoriali. La Valle d'Aosta ne è un esempio fantastico. Secondo, dobbiamo ovviamente avere degli standard qualitativi molto alti per evitare la contraffazione di prodotti che arrivano da altre parti del mondo in maniera a volte poco legale che mettono ovviamente a repentaglio anche la qualità, la sicurezza di quello che mangiamo e di quello che consumiamo e la protezione dei consumatori. In quest'ottica, rivolta alla sicurezza alimentare, quanto è importante la tracciabilità dei prodotti? La tracciabilità dei prodotti è fondamentale, sapere esattamente dove è prodotto, che filiera ha ottenuto, dove è stato trasportato e dove è consumato. Si parla molto di chilometro zero, è una delle prerogative dell'Unione Europea, dall'altra parte ovviamente è un mercato il nostro che fa parte di un contesto, di un mercato globale ormai. E' importante sapere indipendentemente da quello che arriva sulla tavola tutta la filiera, la tracciabilità di quello che arriva, come arriva e da cosa è stato prodotto. Questo perché la prima salute, cioè il primo obiettivo è la salute dei consumatori, poi fondamentalmente di tutti noi, perché poi siamo noi i consumatori di questi prodotti. E quindi la salvaguardia della politica dei consumatori è un'equazione diretta con la tracciabilità dei prodotti. L'attenzione della tutela delle nostre eccellenze è stata una delle tematiche cardine del seminario. Anche l'onorevole Angelo Ciocca ha preso una posizione molto efficace in questi termini. Dico bene? Se vogliamo avere una speranza nel presente e mi auguro anche nel futuro, dobbiamo assolutamente creare le condizioni per difendere la nostra produzione. Abbiamo la fortuna che le nostre produzioni sono produzioni fatti di maestria, fatti di qualità, fatti di eccellenza, fatti di impegno, di sacrifici. E quindi grazie al DNA delle nostre produzioni dobbiamo assolutamente guardare al futuro. È chiaro che dobbiamo difendere le nostre produzioni da una concorrenza sleale. Non possiamo pensare che ci possano essere dei costi europei e un mercato mondiale. Non possiamo appunto accettare questa concorrenza sleale nei confronti della nostra produzione. perché? Perché vuol dire chiudere produzioni, vuol dire chiudere imprese, vuol dire chiudere soprattutto posti di lavoro e occupazione. Se vogliamo aumentare la produzione, se vogliamo aumentare i posti di lavoro abbiamo una grande sfida che è quella di recuperare la contraffazione alimentare del marchio Made in Italy. Vale 60 miliardi di euro. Se l'Europa riuscirà assieme al Paese Italia a vincere questa sfida potremo sicuramente vedersi ridurre in modo significativo il tasso di disoccupazione del nostro territorio e quindi un'occupazione maggiore e una produzione maggiore. Quattro generazioni di produttori di vino in terra di Piemonte, quattro vitigni storici tradizionali piemontesi, nebbiolo, barbera, cortese e moscato, vinificati in quattro stili diversi, come quattro sono gli elementi in natura. Aria, acqua, terra e fuoco sono la magia di questo terroir, un perfetto connubio tra natura e arte. Nei vigneti, infatti, si possono visitare molteplici installazioni, vere e proprie opere d'arte in simbiosi con lo splendido territorio. Alberto Colla, dove ci troviamo esattamente? Adesso ci troviamo a Castelnuovo Calcea, nella tenuta la CURT, che è la più grande tenuta della famiglia Chiarlo, composta da 22 ettari di vigneto coltivati a barbera. In questa tenuta, la famiglia Chiarlo, oltre a produrre la sua barbera più classica, ha anche creato un parco artistico nel vigneto, il primo in Italia. Nel parco La CURT, tutto è in simbiosi, arte, natura e produzione vinicola. La tematica su cui si sviluppano le opere d'arte sono gli elementi fondamentali della natura, elementi essenziali, anche per la produzione del vino. Sì, esatto. Infatti, il parco è stato creato inizialmente incentrandolo sui quattro elementi naturali, quindi l'acqua, terra, aria e fuoco, in quanto la natura è fondamentale per la produzione di un vino di qualità. Sono elementi naturali, quindi non condizionabili dall'uomo e quindi è giusto dedicargli il spazio e l'attenzione che meritano. Questo è un esempio unico nel panorama italiano, un parco artistico nato tra le vigne, connubio tra i mondi dell'arte e quello del vino. Entrambi nascono da un grande estro e creatività da parte di chi li crea e l'obiettivo comune è offrire grandi sensazioni. Possiamo dire che anche se in modo diverso viaggiano su due binari molto vicini. Quanto il mondo dell'arte può fungere da traino per il vino e quanto il mondo del vino per l'arte? Diciamo che viaggiano a braccetto, nel senso che in entrambi i casi sia produrre un'opera che fare del buon vino è un'opera d'arte, quindi in entrambi ci vuole esperienza, passione, capacità e quindi viaggiano di pari passo. Parliamo del vino che si produce su questo territorio, lo stile che da sempre vi contraddistingue è la grande eleganza e complessità dei vostri vini con una propensione ad un'eccellente longevità nei quali siano evidenti la riconoscibilità del vitigno e del terroir di provenienza. Tra i rossi prodotti dalle viti del Parco La Courta c'è la Barbera. Quali caratteristiche presenta questo vino e in quale occasioni è bene degustarlo? La Barbera prodotta qui alla Courta è una Barbera prima era una Barbera ad assi superiore oggi è diventata un Nizza in quanto l'anno scorso ha acquisito la nuova DOCG di questa zona è una Barbera di media struttura e intensità invecchia per un anno in una botte grande di rovere giusto per non andare a intaccare troppo i suoi profumi naturali e poi affina per un anno in bottiglia. L'ideale per un'occasione importante ma anche da tutti i giorni per chi preferisce un vino con un po' più di freschezza che non di tannicità. Fuoco aria acqua e terra sono le opere presenti nel parco e come abbiamo detto rappresentano i quattro elementi della natura queste opere sono state un motivo di ispirazione anche per qualche etichetta della vostra cantina? Diciamo che le cantine dell'etichetta in realtà si ispirano più al territorio in quanto l'etichetta dei cipressi riprende la nostra collina principale dove ci sono i cipressi appunto mentre la nostra barbera più importante che si chiama la CURT ha riproposto un'immagine artistica di questa vigna della Cascina della CURT Come abbiamo appena detto la tematica del parco si incentra sulla rappresentazione dei quattro elementi fondamentali della natura ma secondo te quale di questi elementi può rappresentare al meglio il vostro vino? Sicuramente la terra il terroir quindi tutti gli elementi che compongono il microclima terreno umidità sole inclinazione delle colline altezza influiscono pesantemente sul vino infatti se usiamo lo stesso metodo di vinificazione ma il vino viene da due zone diverse vengono due vini diversi il terreno quindi la terra è molto importante per la vigna capita spesso di vedere delle rose in testa ai filari dei vigneti sono un omaggio alla tradizione che utilizzava questi fiori come campanello d'allarme per segnalare l'arrivo del temutissimo mal bianco questo parassita infatti attacca prima le rose e poi dopo circa una settimana la vite e questo consentiva ai viticoltori di intervenire sulla vite in tempo oggi ovviamente si utilizzano sistemi scientifici di analisi e previsione della diffusione dei parassiti ma le rose sono rimaste ancora in molti vigneti nel caso del parco la curta in testa ai filari le rose non ci sono il loro posto occupato da interessanti installazioni artistiche che raffigurano teste di guerrieri queste opere sono state poste in questa precisa location vogliamo sapere per una scelta artistica oppure nascondono un significato scaramantico no sono sono entrambe le cose sono artistiche che riprendono un'antica tradizione popolare questa antica tradizione popolare prevedeva di mettere all'inizio di ogni filare una testa antropomorfa che doveva essere un spirito che doveva proteggere la vigna da tutti quegli eventi nocivi durante l'anno noi abbiamo riproposto questa idea però l'abbiamo affidata a degli artisti che l'hanno riproposta secondo le loro idee artistiche in particolare alla curta sono presenti tre tipologie di testa segnapallo in quanto sono state fatte da tre artisti differenti nel parco si può trovare anche una panchina dalle dimensioni insolite di che cosa si tratta? la panchina gigante è un'opera molto bella nata da un progetto di Chris Bengall Chris Bengall è il designer di BMW che una volta venuto in Italia in particolare nelle Langhe si è innamorato di questi terreni ha deciso di venire ad abitare qua e di creare questo progetto il progetto delle parchine giganti prevede l'installazione di queste grosse panchine nei punti più panoramici più suggestivi del Piemonte sono fatte in grandi dimensioni in quanto l'idea di Chris Bengall è che sedendoci sopra uno torna a essere bambino in quanto è molto grande rispetto a lui e non tocca con i piedi per terra si torna ad avere la stessa sensazione di quando si era bambini sono posizionati appunto nei punti più panoramici del Piemonte ad oggi sono all'incirca una quindicina di panchine e vi ricordo che sono di tutti i colori diversi devono avere ognuno un colore particolare la nostra è particolare rosso barbera che